Sì, l'ho spento. Ecco, benissimo. Prego, Avvocato, ha il suo timore. Fortunatamente non era fondato. Servassallo, allora volevo chiedere innanzitutto, attualmente lei in che regime si trova? Io vi sento malissimo. Riprovi la domanda più vicina al microfono. Servassallo, lei attualmente in che regime si trova? Io sono libero. È libero da quando? Da quando ho iniziato la collaborazione. Dal 2002 che fui scarcerato dopo un'ordinanza di custodia cautelare, da loro sono stato sempre libero. Gennaio 2002. Ho capito. Quindi in costanza di collaborazione non è stata emessa nei suoi confronti alcun provvedimento? Neanche di domiciliari? No. Ne è stata adottata alcuna cautela nei 180 giorni per assicurarsi che lei non avesse contatti con altri collaboratori? Sono stato affidato al servizio di protezione, non a regimi di detenzione, no. Restrittivi no, nessuno. Ho capito. Quindi ha sempre avuto in uso il telefono cellulare, ha sempre avuto accesso ai mezzi di informazione? Giusto? No, sinceramente dove mi trovo, lontanissimo, non ho mezzi di comunicazione, la televisione, insomma. Per cui il telefono cellulare l'ho sempre avuto, anche perché per contatti per il servizio centrale, per la scorta territoriale, per comunicare i miei vali eventuali appuntamenti di prelieve, eccetera. Per cui il cellulare l'ho sempre avuto. Certo. Senta, è facoltà di accesso, quando dicevo mezzi di informazione, ovviamente essendo libero lei può comprare i giornali, i periodici. 12 settembre del 2008 lei sventola, per esempio, il numero dell'espresso nel quale erano riportati tutti i verbali delle dichiarazioni nel corso del suo interrogatorio del 12 settembre del 2008. Quindi aveva tranquillamente... Che lo scuso, ma non si comprende questa premessa alla domanda. Volevo sapere se... Cioè sventola, che significa? L'ha visto testimone di questa... No, se ne è dato nel corso dell'interrogatorio, Presidente. Se ne è dato nel corso dell'interrogatorio, la dottoressa Ribera dice, ma lei ha l'espresso in mano? Il dottor Milita dice, eh, attenzione stiamo registrando, ma Vassallo ha l'espresso tra le mani, nell'interrogatorio del 12 settembre del 2008. Allora volevo chiedere, lei ha avuto accesso agli aspi, ai giornali? Presidente, non riesco a comprendere questi accenti. Un attimo solo. Se può fare le domande dirette sulla testembre. È una domanda diretta. Sì, la premessa è completamente priva di rilevanza rispetto alla domanda. Se può fare una domanda diretta. La domanda diretta è, in periodo di collaborazione, lei ha acquistato giornali, periodici, riviste oppure no? Sì o no? Io personalmente non li ho acquistati, ma ricordo questo particolare che io stavo... ero stato convocato dal servizio centrale per degli esami da parte della procura. Mi trovavo in località protetta, in un albergo scelto dal servizio con la scorta, alla mattina, perché erano 4-5 giorni che stavamo fuori, ricordo che al secondo o terzo giorno di quell'appuntamento, in quell'albergo, alla mattina alle 8 il Tg5 fece vedere questa immagine con la fotografia. La scorta, sinceramente, si preoccupò di questa cosa, si allarmò del servizio di protezione, facendo... prima di tutto perché stavamo in un albergo, in una località... Ma guardi, io non le ho proprio fatto questa domanda, io le ho chiesto semplicemente se lei ha avuto... Non l'ho comprato io, io non l'ho comprato, non avevo modo di comprare. Allora, non l'ha comprato, lei sarà stato donato, ma lei aveva... L'ho visto! L'ha visto! L'ho visto, sì, l'ha fatto vedere il Tg5. L'ha fatto vedere il Tg5 o lo aveva nella sua disponibilità in occasione dell'interrogatorio del 12 settembre del 2008? Io non ricordo, io non l'ho comprato perché non mi potevo muovere, io stavo con la scorta, sinceramente. Mi sembra di averlo visto. Dove mi hanno poi accompagnato negli uffici, lo avrò visto sicuramente, perché me lo ricordo questo particolare, ma io avrei potuto anche comprarlo, ma non certamente nel momento in cui Tg5 l'aveva fatto vedere, perché è stato con la scorta. L'avrei potuto comprare, dire sinceramente, quando ero arrivato a casa, perché a casa, una volta che mi accompagna nelle quali da protetto, insomma, posso muovere tranquillamente. Io non l'ho comprato, sinceramente. Allora, foglio 33 del verbale del 12 settembre. Presidente, mi scusi, ma cos'è questa? Una contestazione se l'ha comprato o no il giornale, francamente? No, questo vorrei capire la contestazione qual è. No, perché mi oppongo più alle semente... La domanda era se sarà nella sua disponibilità. Allora, mi oppongo alla domanda, è assolutamente irrilevante. È irrilevante. Mi faccio opporre la domanda, è irrilevante la disponibilità del giornale, laddove ci sia una questione riguardante l'eventuale disponibilità di informazioni tratte sull'Espresso, il dipensore potrà portare i giornali dell'Espresso e indicare quelli che sono i brani che sono stati pubblicati nell'Espresso. La domanda, se lo ha comprato o no, mi sembra assolutamente irrilevante. Questa è l'opposizione. Dunque, tecnicamente la contestazione riguarda le dichiarazioni. C'è una dichiarazione in quel verbale del vassallo che riguarda l'Espresso, lei la può contestare. Altrimenti è una questione diversa che lei potrà sempre proporre, è vero? Producendo il verbale o richiamando il verbale. Presidente, guardi, noi dopo faremo una richiesta di acquisizione di tutti i verbali trascrittivi. Gli anticipo. Comunque, foglio 33. Vassallo Caetano, come scrivono non è vero, perché mi conosce bene. Del trascrittivo del 12 settembre 2008. Come scrivono non è vero, perché mi conosce bene. Pubblico Ministero, dottoressa Ribera, state mostrando l'Espresso, Vassallo Caetano. Sì, l'Espresso, Pubblico Ministero, dottor Milita. Stiamo registrando. Va bene, l'ha fatta la contestazione. E ha sentito Vassallo? Sì, l'ho sentito. Se lo ricorda adesso che aveva la disponibilità del settimanale d'Espresso del 12 settembre? Allora, vi dico, io sicuramente l'avrò visto. La disponibilità ce l'ho sempre avuto a comprare nel giornale. Ma in quel momento io il giornale non l'ho comprato perché è stato con la scorta. L'ho visto a Tg5 la mattina, ma già in quell'alberghe, già c'ero stato due giorni, c'era il terzo e dovevo rimanerci ancora altri due giorni. La scorta si è preoccupata di questa cosa. Non ricordo, non mi sono fermato all'edicolo a comprare il giornale. Non interessa nulla. Ha risposto, va bene. Va bene, avvocato. Ma il giornale non l'ho comprato, per cui la disponibilità non me non la disponibilità. Io in edicolo non mi sono fermato. Anche perché stavo con la scorta. Va bene, ha risposto. Presidente, visto che vi è palesato un'intesa ad acquisire tutti i verbali interrogatori comprensivi del verbale e trascrittivi disponibili alla difesa, vi è l'accordo da parte del Pubblico Ministero. Se viene formalizzato oggi e depositato tutto, ovviamente velocizzeremo nettamente l'istruttore dibattimentale. No, è all'esito dell'istruttore, all'esito del controesame. Ah, quindi è successivo l'accordo. Presidente, è un po' singolare, nel senso che... E allora, no, no, nel senso che se la questione riguarda ragioni di economia processuale... Cerchiamo di andare avanti senza polemiche. Si è stato fatto all'inizio del risultato dibattimentale all'esito, è un po' singolare, comunque proseguiamo. Eh, siamo singolari, anzi siamo plurali perché siamo in due in questo momento con il... Signor Vassalo, quanti interrogatori ha fatto il regime di, diciamo, 180 giorni, libero, con telefonino, giornale? Quanti interrogatori ha fatto? Eh, sarebbe fare un superenalotto adesso di dirvi quanti li ho fatti. Tantissimi! Orientativamente ci sa dare un ordine di grandezza, 10, 20, 30... No, non ve li so dare, sinceramente, quante volte sono stato... Comunque mi avvisavo il servizio centrale, per cui sono... Quante volte mi sono incontrato non lo so, ma tantissime volte. Signor Vassalo, lei ha presente l'incontro del quale ha riferito con l'onorevole Cosentino, nel quale Cosentino le avrebbe detto che era cambiata la geografia? Sì. E, secondo lei, è possibile che sia stato il suo 46esimo interrogatorio in cui ha reso questa dichiarazione? O è stato prima, secondo lei? Non lo so, sinceramente, quando è stato, sarebbe una cosa... Io non la ricordo, questa cosa. Non posso ricordarmi in cui sia stata la 46esima volta o la prima volta. Non lo so. Non me la ricordo, ma ne ho parlato con la Procura. Presidente, sin da adesso la Difesa chiede che il Collegio voglia acquisire l'ultimo verbale di sintesi illustrativo dei contenuti della collaborazione del giorno 26 settembre 2008, nel quale sono elencati tutti gli interrogatori sostenuti dal collaboratore Gaetano Vassalo. verificherà che l'interrogatorio al quale facciamo riferimento, 28 agosto 2008, è il 46esimo. Presidente, questo interrogatorio è stato tratto dal fascicolo o dall'altro fascicolo? No, questo interrogatorio è stranamente non inserito in questo fascicolo, è nel fascicolo della procedura parallela, il principe e la ballerina. No, è soltanto per avere sempre cognizione della necessità di averla acquisita dal fascicolo del Pubblico Ministero, secondo le pronunce dito è già stato palesato, è solo per avere possibilità di gestire, di avere cognizione anche del materiale probatorio che state trattando. Certo, la ragione del Pubblico Ministero, come dire, prendo atto della richiesta di precisazione e di altro procedimento, ma riguarda Vassalo e dell'ultimo, quindi credo che sia tranquillamente No, no, non ci sono questioni, soltanto perché ovviamente non disponendo dell'atto in questo momento non sono in grado di verificare la correttezza dei riferimenti. Non c'è opposizione comunque? No, 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 non c'è opposizione. Il Tribunale prende atto e dispone ad acquisirsi all'esito e poi lo produrrà, è vero? No, Presidente, mi scusi, non vi è opposizione alla rappresentazione come contestazione, per quanto riguarda l'acquisizione concordata mi riservo. Ah, va bene. In relazione all'acquisizione su questo atto, sin da adesso chiediamo che il Tribunale voglia in ogni caso acquisirlo, se del caso è anche senza il 507, se ha sommesso il viso della difesa un elemento fondamentale a fine di valutare la spontaneità delle dichiarazioni unitamente agli altri che già sono emersi. Vedete se posso interloquire su questo dato, una richiesta del 507 la posso anche rappresentare ora, ma se dovessimo questionare sulla necessità di valutare la spontaneità io chiedo la questione di tutti gli interrogatori di Passallo, perché ovviamente la spontaneità riguarda tutti gli interrogatori, non certo uno tra i tanti che indica che è il 46esimo interrogatorio, nel senso che non riesco a comprendere, possiamo anche dare atto che sia il 46esimo interrogatorio, però se questo è un dato che determina la necessità di valutare e acquisire il facile di passaggio tutti i verbali interrogatori o nulla a questi, ma allora tutti i verbali di Passallo devono entrare in faccio del dibattimento, questo è il dato. Va bene, io sono favorevole per l'acquisizione di passaggio di passaggio del dibattimento. Andiamo avanti, sì, la questione sarà trattata successivamente. Prego, Avvocato Montone. Senta, in relazione ai suoi carichi pendenti, lei ha un carico pendente per calunnia presso il Tribunale di Roma, di che si tratta? Una calunnia verso Giuseppe Fiori, l'ex sindaco di Cessa. Quindi è pendente, c'è richiesta di rinvio a giudizio? Non lo so, sinceramente, perché l'ultima udienza non ci sono, loro mi volevano a Roma, io non ci sono andato perché avevo chiesto la videoconferenza. Ho capito. Ed è stata rinviata, mi sembra, a settembre. Non ho capito? È un'udienza, ma è un'udienza dibattimentale, è un'udienza preliminare. Non lo sa di che udienza si tratta? Non lo so, sinceramente, so soltanto di essere stato convocato e che avevo chiesto la videoconferenza per non spostarmi a Roma. So che l'hanno rinviato a settembre, quindi c'è un'udienza in videoconferenza a settembre per questo procedimento. Senta, le è capitato, in occasione della sua partecipazione ad udienze in siti riservati, di incontrare altri collaboratori di giustizia? Mai. Mai. Sì, sì, ho sentito, ho sentito la sua risposta. signor Bassallo, lei ha percepito o ha maturato il diritto a percepire indennità di esproprio per la discarica di Giuliani? Il diritto di esproprio no, di requisizione un primo atto ci è stato. Abbiamo percepito 850 mila euro io e mio fratello Nicola. Poi un secondo per varie questioni di esproprio eccetera, era giacente presso la Banca d'Italia a Napoli, quale risarcimento da parte della Prefettura come commissariato di governo per via di alcuni esproprio e di alcune requisizioni. Erano degli indennizi, sinceramente non so se erano esproprio, indennizi di requisizione o quanto sia, però so soltanto che il primo è stato già emesso e ingassato da me e mio fratello Nicola e il secondo era in giacenza presso la Banca d'Italia. Di queste somme ha parlato negli interrogatori della vicenda sottesa a questa requisizione, a questo indennizzo. Per favore potrebbe illustrare l'ammissibilità di questa domanda? Volevo sapere. Cioè la connessione con i fatti per cui ci interessiamo? No, in relazione alla sua qualità di collaboratore di giustizia, se ha rappresentato il suo fratello ha rappresentato la necessità di fare indagini sulla provenienza di questa somma. Perché lui si è impegnato a fare sequestrare tutti i suoi beni di provenienza illecita. Allora volevo capire. Si aveva riferito di questa vicenda onde consentire alla Procura di verificare la liceità della provenienza di questo indennizzo, visto che è legato alla discarica di Giuliano e alla sua gestione, sui dei suoi fratelli della discarica di Giuliano. Volevo sapere se ne aveva parlato, sì o no. A me questo interessa. Sì? Posso rispondere? Certo, deve rispondere. Prego. Ne ho parlato. Ne ho parlato. Io durante i miei sei mesi di collaborazione ho parlato di tutto quello che era a mia conoscenza, tra cui questo particolare ne ho parlato, ne ho riferito. Ed è nella disponibilità attualmente di questa somma? Non ho capito, avvocato. Attualmente, lei e suo fratello siete nella disponibilità di questa somma? No, io da parte di mio fratello non lo so, da parte mia no, assolutamente. I miei beni sono stati sequestrati, non ho disponibilità. Va bene. Ma questo volevo sapere, se era stata posta sotto sequestro questa somma? Non ho capito, presidente. No, volevo sapere se c'è questa somma. L'avvocato è soddisfatto della risposta. Scusi, allora mi perdoni, non voglio assolutamente... Si può presentare, avvocato. Soltanto una precisazione, se posso solo su questo punto... No, si dovrebbe preliminarmente presentare, perché se no il verbale non si comprende. Avvocato Cassandro per la difesa di passato. Presidente, mi perdoni, ma la precisazione dell'avvocato del collaboratore non mi pare... Ancora non l'abbiamo sentito, avvocato. Vogliamo sentirlo. La domanda è una cosa per cui l'opposizione, certo. Sentiamola. Ecco, prego, avvocato. Signor Presidente, era a me. Pertanto se può precisare se sono stati sequestrati tutti i beni di cui era in possesso al momento della collaborazione. Beni materiali e immateriali, ovviamente. Quindi parliamo di beni mobili e immobili. Sì, ma questo vi voglio dire... È una domanda che fa il difensore e il collaboratore di giustizia? No, non è una domanda, è un intervento con riferimento alla sua, però lo farà dopo. Se lo segna, lo facciamo dopo. Non interrompiamo l'esame della difesa. Presidente, il suo verbale di presentazione spontanea del primo aprile del 2008, le sue dichiarazioni furono interrotte, leggo dal verbale. Presidente, vi devono essere fatte delle domande. Se vogliamo proseguire in questo modo, se viene fatta la domanda e risponde l'esaminato. Se vi sono esigenze di fare entrare i verbali nella loro completezza, rispetto alle risposte che magari non sono esaustive, io ribadisco che ho già formulato l'accordo a acquisire tutti i verbali... Signor Bassallo, facciamo la domanda. Le risulta di essere indagato per tentato omicidio aggravato ex articolo 7? Perché io non vedo carico pendente in relazione a questo reato. No. Non le risulta. Le risulta di essere indagato per concorso esterno in associazione camorristica? Perché io non vedo carico pendente per questo reato. Per questo reato, sì. Ah, le risulta? Mi sembra di essere stato condannato già per questo reato a un... No, no, ma io parlo per i fatti successivi a quelli per i quali è stato condannato. Una nuova indagine le risulta o no? In questo momento non mi risulta, non lo so. Non lo so. E le risulta, visto che non risulta dal certificato dei carichi pendenti, se è indagato per traffico illecito di rifiuti? In questo momento non lo so. Sono stato indagato per traffico di rifiuti, sì. Ho fatto dei processi. E in relazione a attività di cessione di sostanza stupefacente, è associazione finalizzata alla cessione di stupefacente, 73-74 legge droga, le risulta se è sottoposto indagine? No. Ma lei nel corso dei suoi interrogatori ha fatto riferimento a cessione di stupefacente? Sì. Ricorda se, in occasione della presentazione spontanea del primo aprile 2008, che segna l'inizio della sua collaborazione, il verbale fu interrotto perché emersero indizi a suo carico? Non me lo ricordo, guardate. Ricorda per caso se venne avvertito che aveva la facoltà di avvalersi della presenza di un difensore? Ricordo di sì. Perché nel verbale non c'è assolutamente traccia dell'avvertimento che le aveva diritto a avvalersi della facoltà di un difensore? Io ricordo di aver già avuto il contatto con l'avvocato, però non mi ricordo con esattezza. Ricordo che c'era l'avvocato presente. C'era l'avvocato presente. Ma non se ne è dato nel verbale che c'era l'avvocato presente. Lei è sicuro che... Non me lo dite a me, perché non me lo ricordo io, sinceramente. Sarebbe un verbale, come dire, mutilo. Non lo dite a me. Non lo ricordo, c'era presente. No, non me lo ricordo. Non ce lo ricordo. So soltanto che io mi sono presentato spontaneamente davanti alle magistrate. Ero libero, non ero accompagnato da nessuno e ho incominciato a parlare di queste cose. E quindi è l'avvocato? Ho manifestato... E poi dopo... Non ho capito? E quindi un avvocato difensore l'ha trovato lì di passaggio. Lei ha detto... No, 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 no. Mi sembra di essere... Mi sembra che mi sia stata... Mi sia stata data la facoltà di scegliere l'avvocato perché dovevo essere assistito. Ma non lo ricordo se era il primo incontro, il secondo incontro. Questo non me lo ricordo. Però mi fu manifestato che ci voleva l'avvocato. Presidente, sin da adesso la difesa chiede al fine di verificare la correttezza non potendosi evidentemente contestare un atto di acquisire il verbale del primo aprile 2008 nella parte in cui non c'è menzione della presenza del difensore e soprattutto nella parte in cui non c'è menzione dell'avvertimento della facoltà di avverersi in un difensore. Presidente, mi ribadisco una richiesta probatoria o vengono formulate, per non appesantire ovviamente l'istruttore, o vengono formulate alla fine queste istanze oppure bisogna necessariamente... Presidente, mi perdoni, ma io non posso formulare le richieste istruttore quando voglio. Mi consente. No, avvocato, io sono parlato col tribunale. Per favore. Siccome... Me lo dica lei. Stiamo evitando le polemiche. Me lo dica lei. Lei ha formulato un'istanza. A questo punto le possibilità sono due. è nell'ordine della gestione dell'udienza. Siccome una richiesta probatoria viene inserita durante l'esame, io posso, o le parti possono, formularle tutte alla fine dell'udienza oppure formularle durante l'esame. Però chiaramente se viene fatto durante l'esame, io sono necessariamente indotto a esprimere un parere. Tutto questo interrompe l'esame, il controesame. Forse è opportuno che riserviamo al prosieguo a tutte le istanze. Perfetto. Sio Vassalo, lei è stato assuntore di stupefacenti. Sì. Da quando a quando? Non me lo ricordo, sinceramente. Ricordo di aver smesso durante la collaborazione. Cioè, appena ho iniziato, un pochettino prima di iniziare la collaborazione, da allora poi non ne ho fatto più uso. Ma prima aveva detto che durante la collaborazione ha smesso. Ha smesso durante o prima? No, 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 no. Avvocato, avvocato, se l'ho detto mi sono sbagliato nell'esprimermi. Mi avete fatto una domanda, voglio rispondere. Ho fatto uso di cocaino. L'ho dichiarato. Durante la collaborazione, cioè, alla fine, da quando ho iniziato la collaborazione, avevo smesso. Dalla collaborazione, ad aprile 2008, Fino ad oggi io non sono stato né ricoverato né sottoposto, però non ne ho fatto più USA e quindi assolutamente mi trovo, sto bene. Ho capito. Senta, a proposito di ricoveri, lei ha subito ricoveri per ragioni di tipo neurologico, presso strutture private, per esempio Fineta Grande, Villa Camaldoli? No, a Villa Camaldoli l'ho fatto per crearmi un presupposto di eventuale condanna di regime incompatibile con il regime carcerario. Cioè mi avevo fatto dei ricoveri finti tramite un amico e tramite dei medici compiacente dietro retribuzione economica. Mi sono fatto una cartella clinica. Sallo, continui, risponda. Mi sono fatto fittiziamente delle cartelle cliniche anche con ricoveri con la clinica Camaldoli, con dei hospital, ma erano fittizi per crearmi una cartella medica. Mi sono fatto anche un ricovero coatto ad Aversa, sempre tramite questo amico infermiere con un medico compiacente di Aversa, per farmi una cartella clinica per incompatibilità di regime carcerario, per eventuali contanni che avessi avuto poi dopo i procedimenti che avevo in corso per le associazioni, per crearmi un presupposto per non entrare in carcere. Anche questo ne ho dichiarato nei sei mesi della collaborazione, stavano i verbali. Eh, ma noi lo sa, non abbiamo tutti i verbali, perché noi leggiamo solo la selezione che ci fa la procura dei suoi verbali. La domanda prossima qual è? Signor Vassallo, e in che periodo ha fatto questi ricoveri fittizi? Non me lo ricordo, sinceramente. Non me lo ricordo con esattezza. Senta, torniamo un attimo alla presentazione spontanea del primo aprile del 2008. Lei può riferire al Tribunale se fu, come posso dire, organizzata la sua presentazione spontanea? O si recò autonomamente in procura, bussò e chiese di parlare con tre sostituti della DDA, quattro ufficiali di polizia giudiziaria? No, io avevo parlato con la questura di Caserta e avevo chiesto di parlare con il magistrato. Mi hanno accompagnato in procura. Ricordo che là c'era il dottore Conso. Incominciai a parlare, a manifestare di queste cose e poi da là è iniziata la collaborazione. Poi non lo so, poi sono venuti tanti magistrati a sentirmi, ma io ricordo che la dottoressa che mi accompagnò era la dottoressa della questura di Caserta, perché io ne avevo fatto richiesta, sinceramente. Avevo detto, no, basta, voglio parlare con la procura. E la dottoressa disse che mi accompagnò. Accompagnarmi da Conso non fu una scelta mia personale, perché io non è che conoscevo Conso o conoscevo il dottore Milito o gli altri, li ho conosciuti durante la collaborazione. Però mi avevo manifestato alla questura di Caserta. C'erano diversi funzionari, tra cui ricordo che c'era una dottoressa che mi fece accompagnare da Napoli, dalla procura. Cioè nel momento in cui io manifestai la volontà di parlare con un magistrato, lei non fece altro che accompagnarmi e presentarmi al magistrato. Poi lei è uscita e non so più, cioè poi ho parlato con il magistrato. Quindi non era presente al momento in cui lei parlò con il magistrato? Non mi ricordo, non credo che c'era presente. Io ho iniziato a parlare solo ed esclusivamente con il dottore Conso e con un funzionario di polizia, sinceramente non mi dite come si chiama. Poi da quella giornata poi si sono verificato, anzi, quello fu il momento in cui poi mi portarono, già mi accompagnarono la polizia e già stavo sotto protezione. Mi avevano già il giorno dopo e mi hanno portato in località protetta. Per cui già da quel momento poi tutti i miei spostamenti erano seguiti dalle autorità giudiziarie, polizia, procura. Cioè io non è che potevo andare a Napoli quando volevo io. Loro mi chiedevano, io mi accompagnavano. Venivano a prendermi le colleghe da protetto e così è andata avanti proprio per tutta la durata della collaborazione. Ma quel giorno in cui lei si presenta spontaneamente con un difensore di cui non c'è traccia verbale, il primo aprile 2008... Il Presidente ha già detto che non si ricorda che c'era presente il difensore. C'era solo un pubblico ministero presente. Non me lo ricordo, dottore. Non me lo ricordo sinceramente perché, ripeto, era un momento di grossa tensione. Non ricordo se c'era qualcuno, se è venuto. Non me lo ricordo. Senta, lei si rivolse a una dottoressa della squadra mobile di Caserta... Già l'ha risposto, già l'ha detto. No, è o all'ispettore Ricciardiello. No, 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 io l'avevo detto alla dottoressa... Io avevo... non me lo ricordo, io l'avevo manifestato precedente ad altre situazioni al dottore Ricciardiello che mi portò a Caserta e a parlare con la dottoressa... non ricordo il nome, comunque era una donna, una signora e lei mi ha accompagnato a Napoli. Cioè nel momento in cui ho manifestato questa mia situazione questo mio... non ha fatto altro che dire... anzi mi fece parlare prima con il questore capo un'altra persona del servizio della questione di Caserta da là di portarmi a Napoli direttamente dal procuratore per cui Ricciardiello come Castelvolturno mi accompagnò a Caserta come sede e poi da là mi hanno spostato loro cioè tra la questura di Caserta e la questura di Castelvolturno mi spostavano come funzionari di polizia per scorta ma anche quelli di Averse mi accompagnavano perché qualche giornata sono stato accompagnato dalla polizia nello spostamento cioè per avvisare la famiglia per chiamare mia moglie e i miei figli se erano disposti a venire con me insomma queste situazioni così iniziali ho capito senta con riferimento ai suoi rapporti con le forze dell'ordine lei ha fatto ricorda di avere agevolato ponendo su di sé un registratore l'arresto di Setola ci spiega al tribunale questa vicenda? mi oppongo alla domanda perché appare non pertinente vorrei capire quando la cosa è avvenuta poi chi è riferito lei è stato confidente della polizia facciamo così confidente con la polizia no avevo qualche amico che di tanto in tanto gli passavo qualche notizia se mi chiedevo qualche particolarità io gliela riferivo ma non è che ero confidente di di varie organizzazioni polizia, carabinieri, rovani no avevo qualche amico in cui avevo un amico nella guardia di finanza che se mi faceva una domanda gli rispondevo seriamente gli dicevo la verità quindi sempre non lo so se è confidenza o non confidenza però io gli dicevo la verità certo ma quindi sono questi suoi amici delle forze di polizia che ogni tanto venivano da lei corretto? no ero io che andavo da loro ogni tanto a parlare con il quando avevo qualche notizia da potergli riferire che era interessante gliela riferivo ma era un amico della guardia di finanza più che altro non ero sia carabiniere polizia eccetera no era un amico della guardia di finanza che io manifestavo sta cosa senta anche alla tenenza la tenenza di Mondragone fa riferimento si faccio riferimento alla tenenza di Mondragone si senta lei nell'ambito di questo suo rapporto informale con la tenenza di Mondragone della guardia di finanza ebbe modo di come dire preoccuparsi di segnalare la possibile presenza sul territorio di schiavone Francesco detto cicceriello all'esito di un incontro con il di lui figlio in Baia Domizia ricorda come avvenne questo colloquio con la guardia di finanza in che circostanza ricordo che quando mi incontraio con Bernardo Cirillo e il figlio di cicceriello di schiavone a Baia Domizia loro dovevano parlare di un problema di trasferire un grosso trattore per evitare di essere questo già l'abbiamo detto poi dopo che cosa fa lei? io di questa cosa della presenza di avendo saputo la presenza di schiavone a Baia Domizia l'avevo riferito a questo amico mio ho capito e andò insieme a lui in macchina a cercare per la strada se trovava le macchine a fotografare le targhe fu un'altra cittura non me lo ricordo questo non me lo ricordo ricordo di averne parlato con lui di questa cosa non ricordo adesso se ha fatto fotografie se stava con me o meno non me lo ricordo questo però ricordo di averlo avvisato della presenza cioè avendo avuto questa notizia da Cirillo mi ero preoccupato di riferirlo ho capito senta ma lei non fece anche una confidenza ai carabinieri circa il nascondiglio di Raffaele Bitognetti non portò i carabinieri anche a cercare la casa di Raffaele Bitognetti no questo fu una cosa si verificò nell'albergo in quanto loro mi facevano pressione i carabinieri del villaggio Coppolo in compagnia quelli di Caserta mi facevano pressione dicendomi che io se avevo qualche notizia gliela potevo passare a loro invece di passarla alla finanza mi chiesero insomma di aiutare loro in qualche confidenza non ricordo se ho portato loro a fare un sopravano ricordo di averne fatto uno nell'albergo c'era una una comunione un battesimo non ricordo di un latitante di un figlio di un latitante che io comunque avvisai i carabinieri perché nell'albergo c'era questa questa cerimonia per cui avevo avuto la notizia che poteva passare il padre che era latitante mi riferisco a Emilio di Caterino per cui questa notizia l'avevo riferito ai carabinieri del villaggio Coppola che poi loro in comunicazione con quelli di Montracone Caserta poi sono appostati in albergo eccetera e quindi rispetto alla casa dove hanno arrestato Raffaele e Bidognetti nel 2007 lei non ricorda che lo stesso giorno addirittura dell'arresto di Raffaele e Bidognetti lei aveva portato i carabinieri qualche ora prima in giro però non eravate riusciti a trovare la casa non ce li ho portati i carabinieri all'abitazione di Bidognetti ma non ce li ha portati perché non li ha trovati non all'abitazione è al rifugio al rifugio dove incontravo pure io perché ci sono incontrato con Bidognetti nella località dove lui faceva la latitanza non ce li ha portati ma non ricordo di aver accompagnato nessuno vediamo se se non ricordo non escludo che ne abbia parlato con qualcuno però di averli accompagnati sul posto non mi risulta altrimenti li avrei accompagnati alla destinazione perché me la ricordavo c'ero stato diverse volte come aiuto alla sua memoria primo luglio 2008 trascrittivo forio 33 domanda del pubblico ministero dove avvenne questa riunione Vassallo Gaetano dove era la titante si parla di Raffaele Bidognetti dove era la titante dove hanno arrestato Raffaele Bidognetti nel 2007 il pubblico ministero dottor Conso dice oh puffo lei riprende oh puffo avevo portato prima i carabinieri di Caserta ma non riuscì ad individuare il posto dopo lo hanno arrestato i carabinieri normali così era una casa situata nei pressi di Padre Figlio la piazza di Casal di Principe è nuovissima quindi lei ci aveva portato i carabinieri cioè si incontrava però ci portava i carabinieri no non ci ho portato i carabinieri là i carabinieri di Caserta mi accompagnavano a casa volevano essere accompagnati sulla località io non li ho portati mi sono fatto accompagnare a casa perché comunque siamo passati per la strada per prendere la la nola Villa Literno però sinceramente io sapevo dove stava Bitognetta e non li ho accompagnati mi sono fatto accompagnare dei carabinieri di Caserta ma non li ho accompagnati Vassallo l'avvocato le ha letto un passo del verbale da cui risulta che lei ha dichiarato di averli accompagnati ma non essere riuscito a individuare a ritrovare il rifugio di Raffaele Bitognetti è una contestazione io glielo sto facendo presente perché lei dopo che l'avvocato le ha letto la dichiarazione ha continuato a sostenere la stessa cosa che evidentemente è in contrasto con quello che risulta dal verbale utilizzato per la contestazione no no Presidente non me lo ricordo sinceramente questa cosa va bene va bene va bene ma neanche dopo la contestazione se lo ricordo no senta nel corso della sua attività in relazione allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi ha mai subito il sequestro o il fermo o il fermo di qualche camion di qualche trasporto ricordo prego ricordo che la discarica è stata comunque per un periodo ha avuto il fermo da parte dell'amministrazione provinciale ma non mi ricordo se è stato fermato qualche camion o meno io parlavo del periodo in cui lei come dire ha lavorato con l'ecologia 89 no qui dall'89 al 93 per esempio non me lo ricordo quando se può essere come dire darci un parametro da quando ha iniziato ogni tanto a incontrare queste persone della guardia di finanza e dei carabinieri per dare ogni tanto informazioni in che periodo la prima volta non me lo ricordo senta è con riferimento proprio a questo suo a questi suoi contatti con la polizia potrebbe spiegarci perché diventa interessante e rilevante il contributo da lei fornito per l'arresto di setola lei ha fatto riferimento all'utilizzazione di un registratore posto sulla sua persona guardate io di questo particolare non me lo ricordo adesso sinceramente del registratore sulla mia persona ricordo che furono messe delle telecamere nell'albergo il registratore sulla mia persona non era riferito a setola ma era riferito a a guida guida luigi ma non a setola se conduttati in verbale io ricordo che averne parlato e di essere stato era un periodo di agosto luglio-agosto di un'estate non ricordo l'anno e ricordo che io andai in pantoloncini mi avevano dato un telefonino particolare che io dovevo portare con me che io avevo appuntamento con il guida luigi che era la di tante presso un'abitazione di lusciano e io l'avevo parlato con quest'amico e mi avevano dato questo telefonino per andare all'appuntamento poi non so il perché o cosa dovevano fare sinceramente non ero a mia conoscenza però la persona non era setola ma era guida luigi penso di averne parlato in questi termini nei verbali dei miei interrogatori di setola sinceramente non setola è stato il motivo della mia decisione di collaborare ma non non per farlo arrestare sinceramente perché non ho mai messo un microfono cioè il problema di incontrarmi con setola era quello di non tornare più dall'incontro per cui non ci sarei mai andato scusa ed era invece per fare arrestare guida per farlo arrestare io avevo detto che mi dovevo incontrare la persona mi aveva dato un telefonino non era un microfono non era era un telefonino mi disse di andare all'appuntamento io avevo dovevo micro spie in tasca no micro spie no 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 assolutamente avevo un telefonino non so né che cosa fosse era un telefonino me l'avevano dato porta questo telefonino con te e vai all'appuntamento tranquillamente io sono andato all'appuntamento tranquillamente mi sono incontrato sono uscito non era successo niente dall'appuntamento per cui non non lei il verbale del 18 giugno 2008 folio 70 del trascripito dice si fidavano molto io mi sono messo le micro spie in tasca per far arrestare guida più di quello se dobbiamo proseguire a ipotizzare una contestazione di ogni leggera discrasia del verbale il telefonino che è consegnato chiaramente è un sistema di accaptazione quindi equiparabile alla micro spie se dobbiamo fare una contestazione in relazione alla differenza tra il telefono consegnato e la micro spie non lo sa oggi perché avrebbe dovuto saperlo nell'opposizione qui la mia è un'opposizione di tipo semplicemente metodologico nel senso se vuole possiamo fare anche la contestazione in questo modo però certo se quando dice micro spia e risponde telefono dobbiamo ritenere che ci sia una discrasia possiamo farlo anche sulle virgole questa attività io non leggo la discrasia perché è una modalità di captazione e questa è la mia opposizione la mia opposizione è semplicemente legata a questo e la rivolgo al tribunale perché se no potremmo andare avanti anche con le virgo il tribunale invita le parti a collaborare per l'accertamento della verità evitando polemiche e in effetti quando è stata fatta la domanda con riferimento a setola vassallo ha detto che era per quanto riguardava guida e non setola che lui si era attivato poi dopo non ha detto micro spia però ha detto che gli hanno dato un telefonino e siccome non è che è abbastanza intellegibile che non fosse un regalo delle forze di polizia presidente però io a questo punto chiederei al collaboratore perché quando ha risposto in questa occasione cioè nell'occasione investigativa del 18 giugno aveva perfetta contezza che il telefonino fosse una micro spia e oggi invece ci ha tenuto a dire no no non era una micro spia era un telefono perché da punto di vista logico altrimenti non si spiega mi perdoni ma guardi che il telefono non sia una micro spia è una cosa abbastanza ovvia quindi non vedo il contrasto e da quello che dice è chiaro che il telefono gli era stato dato perché conteneva un mezzo captativo presidente scusatemi ma dopo glielo ho restituito non è che era una cosa che mi avevano regalato per tenermela per me era un telefonino sì ma io dopo glielo ho restituito per cui non so all'interno cosa ci fosse ma mi dissene che era un apparecchio che costava molti soldi per cui dovevo fare attenzione nel riportarglielo per cui era una forma di telefonino glielo ho riportato e basta quando lo colloca nel tempo questo episodio ho detto era un periodo estivo luglio-agosto sicuramente ma l'anno non me lo ricordo era luglio-agosto perché io ci andai in ciabatte con il pandoloncino per cui questo lo ricordo molto bene lei ha effettuato colloqui investigativi nei 180 giorni con esponenti della polizia giudiziaria mentre era nei sei mesi diciamo di collaborazione dal primo aprile no io dalla data della collaborazione mi hanno accompagnato in una qualità protetta non ho più visto ne so anche perché è lontanissimo per cui non ho modo e mezzi di incontrarmi o vedermi con persone no non li ho più visti nessun agente ufficiale della polizia giudiziaria no non parlo di quelli con i quali lei faceva il confidente parlo con altri non necessariamente tenenze di Mondragone carabinieri di Casale no no ma ho incontrato le persone che venivano unitamente accompagnati a quelli che erano i pubblici i procuratori che venivano a sentirmi quindi solo per accompagnarla sostanzialmente non per fare colloqui investigativi ma ha detto le forze dell'ordine che accompagnavano i magistrati del pubblico ministerio quindi praticamente non ha fatto ma venivano indicati nei verbali no no che significa le indicative io volevo capire se aveva fatto o no colloqui investigativi con esponenti io durante la mia collaborazione o solo durante la mia collaborazione ho solo parlato con i pubblici ministeri che venivano uno due tre basta poi i poliziotti stavano unitamente a loro io non so e non ricordo ogni tanto venivano persone diverse con i procuratori ma se io dovessi dirvi chi fossero o non meno venivano indicate nei verbali quando c'era pure l'avvocato venivano indicati i presenti la mia domanda verbali cioè incontri extra a differenza degli altri io durante la mia collaborazione mi sono solo visto esclusivamente con i pubblici ministeri no ha risposto in maniera esauriente su questo lei è esclusa di aver fatto colloqui investigativi sento una domanda così un po' spuria ma lei venne arrestato nel gennaio del 2002 ha riferito e poi fu scarcerato dopo 15 giorni ma in quel periodo lei ancora prestava la sua attività in favore della flora ambiente eco 4 quando venne arrestato nel 2002 non me lo ricordo questo con esattezza sinceramente la detenzione la ricordo ma non ricordo se collaboravo meno con la flora ambiente allora adesso le devo fare qualche domanda sui tempi di conoscenza con alcune persone allora volevo chiederle lei quando ha conosciuto Lubello Giovanni Lubello Giovanni l'ho conosciuto durante durante la fornitura dei computer ai fratelli ursi quindi dopo la costituzione di eco 4 non ricordo adesso se era dopo la costituzione un pochettino prima non penso che era prima della costituzione perché si stavano attrezzando per gli uffici quindi è prima della costituzione dell'eco 4 e chi fatturava se non c'era l'eco 4 ma stava preparando con i fratelli ursi non lo so a chi fatturasse se alla floro o alla senta e quando ha conosciuto invece Luigi Guida si sente? Vassallo ha sentito la domanda? no Presidente non ho sentito proprio niente la domanda è quando ha conosciuto Luigi Guida? non me lo ricordo quando l'ho conosciuto sinceramente Z e quando ha conosciuto Bernardo Cirillo? Bernardo Cirillo l'ho conosciuto con la costituzione della società Ecologia 89 che era socio di Cerci Gaetano e di un'altra persona e Miele Massimiliano quando l'ha conosciuto? Massimiliano l'ho conosciuto quando un pochettino quando mi hanno parlato di dare collaborazione cioè un pochettino prima dei vari incontri con i fratelli ursi cioè è stata la persona che mi ha mandato Bernardo Cirillo per cui dovevo mettermi a disposizione di Massimiliano che era lui il cognato il fratello del cognato di Bernardo Cirillo in realtà in quell'occasione l'ho conosciuto quando è venuto a parlarmi di interessarmi della società della flora ambiente della società mista che si doveva creare quando è venuto accesa negli uffici della sedia sud ho capito adesso qualche domanda di precisazione abbiamo già sentito le sue risposte due lunghe udienze poi l'acquisizione dei verbali quindi veramente si tratta di puntualizzazioni diciamo così chirurgiche volevo chiederle quando Bernardo Cirillo la contattò per diciamo provocare il suo contatto con gli orsi per la vicenda dell'Adi le chiese se lei fosse disponibile o le ordinò di mettersi a disposizione mi disse che mi dovevo mettere a disposizione dei fratelli orsi se potevo dare collaborazione cioè le ordinò di mettersi a disposizione non ho capito perché è una domanda un po' mi disse di mettermi a disposizione era un ordine sì era un ordine avrei potuto anche dire di no però mi fu ordinato di mettermi a disposizione di mettermi a disposizione di mettermi di mettermi a disposizione di mettermi a disposizione di mettermi 2008 trascrittivo folio 37 domanda del pubblico ministero fu chiamato o prendesti accordi vassallo per la riunione fui chiamato e fui e mi fu detto se avevo se volevo mettermi a disposizione pubblico ministero da Bernardo che vassallo disse io ti fisso un appuntamento poi c'è la dettatura del verbale riassuntivo dice il pubblico ministero che mi chiese se volevo mettermi a disposizione lei ribadisce se volevo mettermi a disposizione poi c'è la dettatura del verbale riassuntivo fu chiamato da Bernardo Cirillo che mi disse che dovevo mettermi a disposizione ma lei per due volte prima della redazione del verbale riassuntivo aveva detto mi chiese se volevo mettermi a disposizione quindi questo è un ordine o è una richiesta di disponibilità Presidente mi oppongo all'opposizione così formulata anche perché al rigo successivo bastallo dice quello che ha detto l'odienza di oggi per la costituzione di mettermi a disposizione con i fratelli Orsi quello che ha detto oggi è di mettermi a disposizione con i fratelli Orsi poi gli è stato chiesto mi oppongo Presidente mi scusi sto finendo l'opposizione è stato rappresentato poi che se era un ordine oppure una manifestazione di intenti lui ha dato l'indicazione di ordine nella trascrizione si legge di mettersi a disposizione esattamente come come lo ha detto oggi oggi ha specificato che nella sua valutazione quello era un ordine non riecco a cogliere ragioni però per ritenere il difforme quello reso in fase di indagini preliminari rispetto a quello dichiarato oggi in udienza se può essere richiesto eventualmente perché ritenne che fosse un ordine e allora la domanda possiamo entrare più nella specifica e capire perché ha ritenuto all'epoca come ha detto oggi che quello fosse un ordine per la verità dato il contesto in cui si svolgono i fatti riferiti e oggetto della precedente dichiarazione mi pare che non ci sia una grande differenza fra chiedere se si vuole mettere a disposizione o la dichiarazione lui che si doveva mettere a disposizione perché delle richieste per la provenienza che hanno non lasciano grandi alternative comunque la contestazione mi pare che già l'ha fatta se possiamo andare avanti sì signor Vassallo ma c'era la possibilità che all'esito dell'incontro lei non diciamo non prestasse il suo contributo penso che non mi potevo rifiutare ma non dipendeva sostanzialmente da lei una valutazione di fattibilità del progetto no non era da me una fattibilità di verbiare loro venivano a sottopormi i loro problemi di natura relativamente al al fabbisogno che loro avevano in mente di organizzare mi proposero delle cose io all'inizio d'andrevere che gli avevo detto che non hanno perché loro all'inizio non mi hanno detto subito il programma dei fratelli orsi quale fosse mi fu detto che dovevano interessarsi alla cara di appalta del comune di Mondragù al che io gli avevo dato parere negativa e disse sentite se è questo lasciate stare tutto è inutile che ci mettiamo in movimento perché per me è una una questione non redditizia perché alcuni comuni che ho io come sedia sud li sto lasciando figuriamoci se devo riniziare con voi un discorso di riformulare questo al mio suggerimento al mio parere di negatività per quanto riguarda il servizio di raccolta al comune di Mondragù loro mi dissero che non era quello il loro obiettivo ma l'obiettivo era quello di c'era la possibilità di organizzare un consorzio misto tra pubblico e privato il che era la situazione era perfettamente condivisibile con me e mi in quelle occasioni chiedi il parere favorevole e incominciamo ad adoperarci per la costituzione di questa società mista anzi per l'ATI e poi per l'eventuale società mista perché dovevamo costituzione sì va bene per questo lo sappiamo e se lei avesse dato parere sfavorevole mi opponga la domanda è formulata in modo ipotetico è un'eventualità Vassallo lei aveva interesse a fare questo lavoro questa attività a prestare questo aiuto agli orsi agli orsi personalmente non avevo nessun interesse di fare questo intervento ma con gli amici miei sì per cui era interessante il discorso valutò se non le convenisse rifiutare io vi ti la proposta allettante sinceramente perché in quel momento era l'unico per risolvere il problema della raccolta dei rifiuti l'unico escamotaggio era quello dei consorsi misti pubblici privati era l'unico sistema dove il privato poteva incedere nel servizio delle rifiute altrimenti con l'avvenuta dichiarazione dell'emergenza in campagna per i rifiuti non c'erano alternative per cui il privato non avrebbe potuto più effettuare servizi inerenti la raccolta tranne che la società mista pubblico privata era l'unica soluzione per cui era l'unico elemento a favore perciò io avevo accettato di interessarmi e di dare una mano ad entrare in questo discorso perché loro avevano interessi che gli davano una mano altrimenti l'avrebbero fatto da solo non credo che non avevano interessi o bisogni di me altrimenti non sarebbero venuti signor Vassallo ma l'intervento che le fu chiesto inizialmente aveva un contenuto di consulenza cioè sostanzialmente si può dire che erano venuti da lei affinché lei valutasse se il progetto era conveniente o meno allora erano venuti da me a chiedere cioè questa questione mi fu posto da Bernardo Cirino se è una questione di interesse quando sono venuti da me eravamo per organizzarci cioè dopo aver parlato dei particolari iniziali ci adoperammo subito per creare i presupposti che affinché la flora ambiente avesse i requisiti per poter partecipare questo lo abbiamo capito io volevo sapere un'altra cosa quando Bernardo Cirillo le chiama le dice di mettersi a disposizione se voleva se doveva che era un ordine e va bene e lei va a questo incontro e le viene prospettato questo progetto le viene chiesto di dire se era fattibile o non fattibile se era praticabile o non praticabile lei sostanzialmente io non andai io non andai all'appuntamento sono venuti loro da me sono venuti loro nei miei uffici io il primo accordo il primo approccio l'ho fatto con Bernardo Cirillo dove mi aveva detto che questa cosa doveva andare in porto quando i fratelli i sorsi sono venuti da me non volevano non avevano fiducia o era perché era la prima volta che si incontravano con me non hanno detto chiaramente qual era l'obiettivo quando mi è stato detto quando mi è stato riferito della volontà della costituzione del consorzio non misto pubblico privato io ho detto di sì ed era la proposta che mi sono adoperato affinché questa cosa andasse in porto non era una consulenza non era una consulenza io l'ordine l'avevo avuto già prima da Bernardo Cirillo che questa cosa interessava all'Ellucce Bidognetti il figlio di Cicciotto il primo figlio di Cicciotto quindi sta cosa io dovevo mettere a disposizione dovevo creare i presupposti affinché questa cosa andasse in porto non è che quando sono venuti da me gli orsi mi hanno detto facciamo così facciamo così no inizialmente non avevano volevano solo essere aiutati nella fornitura di alcune cose affinché loro avessero i requisiti per poter fare ma la volancella l'ordine l'indicazione era quello di di interessarmi allora e di dare una mano allora affinché si costituisse questa cosa anche perché era la volontà di Bidognetti e Cervasallo tutto quello che lei ha detto francamente lo ha già ripetuto ma non ci interessa più di tanto io le ho fatto una domanda diversa le fu chiesto di avallare il progetto o no? può chiarire un po' con la domanda avvocato? mi fu dato ordine di interessarmi a sta cosa basta non è che mi dovevo valutare mi fu dato ordine di interessarmi a sta cosa e di andare avanti e di procurare e creare presupposti affinché questa cosa potesse andare in porto quindi senza una valutazione quindi non era una consulenza senza una valutazione 5 giugno 2008 e per capire un attimo un foglio 11, Vassallo Gaetano, era quasi come se avessi dovuto avallare quella proposta di consorzio. Se una cosa redditizia conviene, se dicevo sentite una stronzata, probabilmente non se ne faceva niente. Quando poi hanno saputo che avevo detto che quello che avevano in mente i fratelli Orsi, cioè Sergio Orsi, era una cosa importantissima, allora volevo capire. Lei sostanzialmente fu sollecitato a esprimere una valutazione sul progetto. Presidente, mi oppongo alla domanda. Al di là del fatto che abbia utilizzato in un lunguissimo interrogatorio, che ha rappresentato che gli Orsi non sapevano fare nulla, non avevano le attrezzature, non avevano nessuna conoscenza nel settore, ha utilizzato semplicemente, ha ceduto gli attuamenti per poter svolgere il servizio, altrimenti non era possibile neppure iniziare, a trovare le persone per riuscire a individuare e creare lati. Ha usato questa parola, nel senso che in ogni momento in costruzione di società vi è un momento in cui si avvalla qualcosa che il progetto chiaramente non era di passare. Sull'avvallo francamente che ci sia questa opposizione e questa contestazione mi sembra palesemente irrilevante, non c'è proprio contraddizione tra quello che è stato rappresentato, quello che ha detto in udienza, sia in questo processo che negli altri processi con il cordo acquisitivo, con quello che ha riferito in un brano degli interrogatori. È rilevante perché consente di cogliere il ruolo. Vassallo dice che è il ministro dei rifiuti, dice che è l'unico che ne capisce di rifiuti, ma è possibile che gli Orsi non ne sapevano niente, che gli dessero l'ordine di aiutare gli Orsi e lui lo faceva, anche se il progetto, come dice lui, ab sit in ura verbis era una stronzata, perché queste sono le sue parole avverbale. Questo è quello che la difesa cerca di comprendere. Poi valuterà il tribunale se è rilevante o non è rilevante. Vassallo ha compreso il difensore e le ha letto quel passo in cui in sostanza c'era l'accenno a una sua valutazione, una valutazione che avrebbe, insomma, almeno per verificare che la cosa fosse profigua, per confermare che la cosa fosse profigua, perché l'avallo è proprio questo, è che qualcuno che dà una garanzia del buon esito dell'affare. No, loro già sapevano il problema, qual era, già avevano preso degli accordi con Bitognetti, a me era soltanto una questione di interessarmi a questa cosa. La valutazione non era una valutazione tecnica, ma era una valutazione di natura, cioè io dovevo trovare i presupposti per creare qualcosa, non è che dovevo dare parere favorevole se era redditizio o meno, il parere della redditività già c'era perché avevano preso i fratelli Orsi, avevano preso degli impegni con Bitognetti, io dovevo solo creare i presupposti per andare avanti, perché i fratelli Orsi non avevano attrezzato, non avevano niente, avevano solo una società, non avevano niente altro che, se i fratelli Orsi avevano le possibilità non sarebbero venuti da me a chiedermi delle cose. Senta, per collocare nel tempo l'incontro, vennero da lei, per carità, non un appuntamento, non andò lei all'appuntamento, l'appuntamento con Orsi, rispetto alla gara, quanto tempo prima avvenne? Se ci può dare una data, perché lei ha parlato di 3-4 mesi, 4-5 mesi, se ha fatto mente locale, più o meno quanto tempo prima dell'espletamento della gara? Lei ricorda la gara quando avvenne? La gara non me lo ricordo, non ricordo quanto è passato tra la costituzione della società, io dovevo crearmi i presupposti per lati, quindi per creare i presupposti, non per creare la questione con lati e il consorzio, io dovevo creare prima lati, cioè sono due passaggi distinti e separati. Quando parlate di gara, dovete riferirmi, se è la gara per l'associazione temporanea di imprese, per avere i requisiti per poi poter partecipare, perché io all'interessamento del lati mi sono interessato, l'interessamento del lati con l'eco4 non mi sono più interessato. Quindi ci sono state due gare? Il consorzio Caserta 4 ha fatto due gare? Una per l'ati e una per l'eco4? No, la flora ambiente, il primo incontro che ho avuto per interessarmi e per creare i presupposti era quello per la flora ambiente, perché la flora ambiente non poteva partecipare, doveva crearsi prima un'associazione temporanea di imprese, perché la flora ambiente non aveva posso? Sì, prego. Non aveva i mezzi, le attrezzature per poter fare una gara con il consorzio Caserta 4, non aveva i requisiti, doveva trovarsi prima i presupposti, per cui impiantistica, attrezzature. E quindi formare un atti e partecipare in forma di atti alla gara, ma la gara fu una o fu due? O furono due? No, avvocato. Una? Mi ha detto le gare? No, ha parlato di due fasi, una quella della costituzione dell'associazione temporanea di imprese e l'altra quella della gara. E qua non riesce proprio a ricordare quando ci fu la gara? No, non me lo ricordo, ma non mi ricordo neanche quando è stata fatta l'allati, sinceramente, perché purtroppo per le dati posso fare qualche collegamento di periodi, ma con esattezza non me lo ricordo. Della gara vera e propria, lei si è interessato? La gara? No. Lei non si è interessato della gara nel senso che non ha partecipato alla gara, alle fasi della gara. No, io non ho partecipato, io non ho partecipato alle fasi della gara con quattro, cioè, a ati, flora, ambiente, con la gara, con il... all'inizio della costituzione, delle predisposizioni, della giudicazione no. Tutta la parte precedentemente alla giudicazione mi sono interessato, dopodiché l'input di non interessarmi più della cosa, per cui me ne sono uscito tranquillamente. Lei ha partecipato all'attività di formazione del capitolato? Del capitolato della flora, ambiente collati o del capitolato del consorzio? Il capitolato del consorzio, della gara, dell'unica gara... No, l'avevo saputo perché l'aveva preparato il direttore di Biasi, il direttore del consorzio Caserta 4, unitamente al Presidente e ai fratelli Orsi, dove avevano inserito dei particolari affinché, insomma, l'ati, avesse la giudicazione del braccio operativo del consorzio. Diamo atto che è intervenuto l'Avvocato Agostino De Caro che assume la difesa del proprio assistito. Presidente, ci sono tre... Presidente, mi scusi. Presidente, mi scusi, non so se l'Avvocato De Caro si costituisce o meno perché c'è già un sostituto, quindi da dove si costituisca è necessario... Allora pensavo fosse implicita l'Avvocato Letizia... Quindi... Sì, va bene, allora lei è solo per assistere. Andiamo avanti per favore. Per passarlo, lei personalmente si interessò al capitolato di gara? No, io non mi sono interessato. Si era interessato al capitolato l'architetto di Bias, che era il direttore del consorzio, unitamente al presidente del consorzio Peppa Valenti e ai fratelli Ursi, inserendo quei particolari, però sinceramente non l'ho fatto io il capitolato. In collaborazione ho dato qualche riferimento al direttore del consorzio, però il capitolato l'hanno fatto loro, non l'ho fatto io. Quindi lei ha dato dei suggerimenti, insomma, ha suggerito l'inserimento di qualche clausola all'interno del capitolato? Ma l'avevo fatto nei presupposti collati, per cui le condizioni del lati erano quelli là favorevoli all'inserimento dell'appalto. Cioè, dovevano avere dei requisiti per quanto riguarda la raccolta dal tassonetto, dovevano avere dei requisiti per quanto riguarda la gestione di impianti per lo smaltimento. Cioè, queste erano le condizioni che poi erano state date ai fratelli Ursi e poi fatti trasferiti nel capitolato del consorzio. Perché i fratelli Ursi, con l'architetto di Bias e il presidente Peppe Valente, erano l'unica cosa per cui si trasferiva quello che erano tutti i vantaggi della Flora Ambiente a partecipare alla gara. Mi scusi, da un punto di vista proprio cronologico, ma il bando per partecipare alla gara del consorzio Caserta 4 era già stato pubblicato quando lei svolge tutta questa attività? No. Non lo ricordo, sinceramente, se era già stato fatto o meno. No, e cerchi di ricordare, è una cosa interessante. Faccia uno sforzo, per favore. No, e non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Perché se il bando di gara, come lei ebbe modo di riferire, era costruito su misura, evidentemente il bando di gara viene dopo la formazione dell'Ati. Non c'è bisogno di costruire un'Ati per rispettare il bando di gara. Il bando di gara l'avevano fatto praticamente gli Orsi, tramite Valente e tramite Di Biasio. Presidente, se può fare la domanda, perché è una premessa, peraltro anche errata, nel senso che, però se può essere fatta la domanda, perché la premessa errata, consolarmente e inconsolarmente comporta poi una risposta, chiaramente ulteriormente errata. Faccio una domanda specifica. Non ricordo, ha già detto. Senta, lei ha detto che il capitolato venne predisposto da Di Biasio, da Valente, che erano tutt'uno con i fratelli Orsi, giusto? Sì o no? Sì. Sì. Che il capitolato era sostanzialmente costruito su misura, perché riprendeva tutte le caratteristiche dell'Ati, giusto? Sì. Sì. E allora mi spiega la sua funzione. Qual era l'utilità marginale del suo intervento da un punto di vista professionale, se il capitolato era comunque già ritagliato a misura su quella che era prima la Costituzione dell'Ati? Presidente, mi scusi, mi oppongo. Ma scusi, ma non... Ha detto che è la Costituità lui l'Ati. Eh, appunto, sei interessato proprio della Costituzione dell'Ati. Tutto questo avveniva ovviamente in collusione con quelli che poi dovevano fare il bando. Presidente, lui costituisce, si organizza per la Costituzione dell'Ati, il bando viene fatto dopo. Io questo non riesco a comprendere. Ha detto che non si ricorda, Avvocato, ha detto che non si ricorda se è fatto prima o dopo. Questa è la parola testuale che ha riferito. Poi su questo punto può fare le domande, però la sua risposta è non mi ricordo, non è la risposta dopo. Allora, vediamo un attimo. Però mi devi dare un po' di tempo per trovare le contestazioni. Può darsi che è così, magari abbiamo un altro parametro temporale. Il bando è stato formato prima o dopo la Costituzione della flora ambiente? Non me lo ricordo, Avvocato. Io ricordo soltanto di aversi interessati all'Ati perché era una questione, cioè si creavano i presupposti per poterlo fare nel bando. Cioè dovevamo crearci prima il vestito, le condizioni della flora ambiente dovevano avere i particolari che potevano andare bene e che non tutti potevano avere nel partecipare al MA. Per cui il bando si doveva fare sulle caratteristiche e sulle specifiche dell'associazione. Cioè l'Ati veniva creato dei presupposti perché poi il consorzio facesse il bando unitamente a quello che erano i presupposti dell'Ati. in modo che solo loro potevano avere queste caratteristiche per partecipare, cioè per ridurre il numero dei partecipanti alla gara. Quindi era una cosa collegata. Il periodo non me lo ricordo se è stato fatto prima o poi, ma erano comunque concatenati. Grazie. 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 Lei ha fatto riferimento, così nel frattempo con sfoglio può darsi che ci tolga da questo imbarazzo e da questa attesa, al fatto che nel bando mancassero i requisiti. Cioè nel senso che rispetto al bando la flora ambiente non avesse i requisiti per cui si dovesse costituire un'Ati rispondente ai requisiti. Questo lascia intendere che il bando c'era prima. Non me lo ricordo, avvocato. Se lo lascia intendere, lasciatelo in me, io non me lo ricordo. Io so soltanto che, a parte il fatto che poi non mi sono più interessato nella cosa, ma il mio interessamento era quello di creare dei presupposti alla flora ambiente che non aveva niente, non aveva attrezzatura, non aveva mezzi, non aveva capacità, non aveva personale, non aveva niente di poter partecipare. Io mi sono interessato a tutto questo. Questo doveva coincidere con il capitolato, cioè questo che si creava con la flora ambiente doveva entrare nel capitolato del consorzio. Io non me lo ricordo se stava in programma, se è stato fatto, se si doveva fare, non me lo ricordo. C'era un accordo tra Peppe Valente e i fratelli Orsi per l'aggiudicazione all'atti flora ambiente della gara? C'era un accordo precedente, l'indizione della gara stessa? Era già tutto scritto, per quanto lei sappia? No, io, Peppe Valente era una persona dei fratelli Orsi, per cui io so, avevo saputo, dai fratelli Orsi e da Sergio che aveva dato dei soldi a Peppe Valente, per cui l'impegno, l'accordo comunque rientrasse in questa questione della gara tra il consorzio e la flora. Quindi avevano degli impegni assunti tra i fratelli Orsi e Peppe Valente e l'architetto di Biasi, perché almeno da quando mi sono incontrato con loro questa era la volontà, perché spesso ci incontrovavamo negli uffici della SOCOM dei fratelli Orsi a Santa Maria per preparare queste notizie. Ho capito. Rispetto alla vicenda del termovalorizzatore Santa Maria La Fossa, lei quando è che ne sente parlare la prima volta rispetto alla sua attività prestata per i fratelli Orsi? era già stato estromesso dopo il colloquio con Guida o era ancora operativo per Ecoquattro? No, no, era già stato estromesso, avvocato. Però io anche dopo le stromissioni da parte dei bidognetti di questa cosa mi sono interessato sempre della cosa. Mi perdoni, no, no, io volevo capire, volevo cogliere un attimo il dato temporale, la prima volta che lei ne sente parlare era già stato estromesso. Le dico questo perché... Però io stavo rispondendo, vabbè, se non interessa lo lasciamo stare. Però io stavo rispondendo. No, ma interessa, dopo gliela faccio la domanda, sia tranquillo, così avrà modo di rispondere. A me interessa, poi dopo farà tutte le precisazioni che vuole, che la prima volta lei era già stato estromesso. Le dico questo... Lo ha già dichiarato. Perché... Ma volevo rispondere, avvocato, perciò dicevo... Vassallo, lei già lo ha detto che è rimasto interessato a questi affari, e tanto che l'ha citato proprio con riferimento all'imputato di cui ci interessiamo. Allora, le dico... Le ho fatto questa domanda per, come dire, chiederle una certezza su questo profilo, perché lei, la collocazione temporale della sua conoscenza dei fatti che riguarda il termine valorizzatore di Santa Maria la Fossa, in periodo investigativo, la riferisce in tre verbali diversi, in particolare nel quello del 29 maggio, quello del 10 di luglio e quello del 12 di settembre, dando versioni differenti. Perché il 29 maggio, lei dice, non era ancora dato via. Siamo, siamo, diciamo, in un... È nuovo questa modalità dell'esame. Faccia la domanda e contesta un passo, poi contesta un altro perché è diverso dal PRI, e non lo so, ma così non andiamo bene. Siamo in una valutazione complessiva delle dichiarazioni, la farà in sede di discussione. Grazie. Allora, foglio 32 e 33 del verbale integrale del 29 maggio 2008. Domanda del maresciallo. Abbiamo già chiesto del terreno del termovalorizzatore, PM? No, non abbiamo chiesto. Vassallo, c'è stata la pressione fortissima di Michele e Sergio Orsi con i vari politici locali, come Cosentino e come. Ma di questo non avete parlato? Vassallo, non come Cosentino e come Landolfi per la questione di portare la discarica a Santa Maria La Fossa. Che periodo era? Maresciallo che fa la domanda. Vassallo, periodo? Vassallo. Io stavo ancora in una fase di collaborazione con loro. Non ero ancora andato via. Secondo me, ma si parlava prima dell'ampliamento di Parco Saurino ed era una grossa discarica che stava più verso Carino. Quindi lei dice, io stavo ancora in fase di collaborazione. Presidente, se legge tutta la risposta di Vassallo è chiaro che sta rispondendo dalla discarica a Santa Maria La Fossa. Visto che la domanda è duplice. La domanda viene fatta in modo duplice. La risposta è chiaramente legata alla discarica. Poi, se da qui si vuole inferire che la risposta stava ancora in collaborazione, si riferisce anche al termologizzatore, è un'inferenza del difensore. Però se si legge l'intera risposta senza fermarsi a un certo punto, è chiaro che il lettore capisce chiaramente... Il tribunale non lo sa perché non ce l'ha questo verbale. No, Presidente, io controllo ovviamente la contestazione, se non c'è difformità, però deve leggere... Lei può invitare il difensore a leggere anche il resto che ritiene rilevante, ma è inutile che lo dice. No, nel senso non c'è difformità, mi devo porre la contestazione perché non c'è opposizione tra il verbale, se si legge l'intera fase. Perché la domanda è, è stata dunque, no, come Cosentino, come Landolfi, è la questione di portare la discarica a Sant'Evila Fossa e di fare... Vabbè, ma il tribunale... Era d'accordo anche il sindaco, ma era proprio una cosa. Che periodo era la domanda? Non è riferita al termologizzatore, ma alla discarica. E la Dazzallo comunque risponde, al di là di come era riferita la domanda, io stavo ancora in una fase di collaborazione con loro. Non era ancora andato via, secondo me, ma si parlava prima dell'ampliamento di Parco Saurino, ed era una grossa discarica. Che stava, diciamo, che stava più verso Carino, la Falciano, una cosa del genere. Il sindaco si chiamava, ma quello è il sindaco che era specializzato. Allora contesto un altro passo del verbale. Sì, però... Contesto un altro... No, un altro verbale. Questo è decisamente sul termo valorizzatore. Verbale, trascrizione integrale, 12 settembre 2008, folio 43. Domanda, quando a suo ricordo nasce la volontà di creare e realizzare un termo valorizzatore a Santa Maria la Fossa, nel 2000 c'era questa volontà, Vassallo. Non me lo ricordo, non voglio dare numeri. Domanda, lei lo apprende dopo la sua uscita dal rapporto con gli Orsi, Vassallo? Sì, ma proprio alla fine. Non siamo ancora scassati. Allora, oggi ha detto che era già scassato. al settembre 2008 dice che era la fine, ma non era scassato. Riesce a darci un'indicazione o a spiegarci il senso di questa, diciamo, difformità? Allora, come io, come stavo dicendo, io, quando parlo della grossa discarico, io collaboravo ancora con i fratelli Orsi. No, no, io ho la termo valorizzatore. Non ci urli mai, Vassallo. Senta un po', praticamente, questo passo che ha letto l'avvocato, fa intendere che... Allorché si parlava del termo valorizzatore, il suo rapporto di collaborazione ancora c'era, anche se era alla fine, se ho ben inteso. Mentre lei, poco fa, ha affermato che lei era già fuori, diciamo, dall'affare dell'Eco 4. Per quanto riguarda l'impianto di termo valorizzatore, ripeto, io stavo già uscendo. Non lo so, non ricordo se ero già uscito, ma preciso che comunque io con i fratelli Orsi, nonostante avessi avuto l'impatto dall'input da Bernardo, da Guida, eccetera, ad uscire fuori dalla questione, ecco, 4, dei fratelli Orsi, io comunque con i fratelli Orsi ho avuto sempre buoni rapporti, mi sono sempre inserito, mi sono sempre visto a Beidomizia, ho sempre collaborato. Io non ricordo se per quanto riguarda l'impianto di termo valorizzatore era uscito, io penso che era uscito o stava per uscire, o l'ho saputo dai fratelli Orsi appena sono uscito. Io per quanto riguarda la discarica, invece, la prima domanda che mi ha fatto l'Avvocato era la questione della discarica, perché io per la discarica collaboravo. Non le ho mai saputo la domanda sulla discarica. Va bene, comunque, non importa. Sì, ma la prima domanda era riferita all'impianto di ingegnerimento, io per quanto riguarda l'ingegneritor probabilmente era già uscito, probabilmente era già uscito da Beidomizia. Andiamo avanti, facciamo qualche altra domanda. Senta, volevo chiederle, con riferimento a questo discorso del termo valorizzatore, lei le fu detto, le fu rappresentato, comprese, altrimenti, che la creazione del termo valorizzatore fosse legata al progetto di realizzazione di un ciclo integrato di rifiuti a livello consortile. Non me lo ricordo, Avvocato. Allora. Allora, verbale 10 luglio 2008, solo il riassuntivo. Certamente Sergio Orsi mi parlò dell'intenzione di realizzare un termo valorizzatore, ma non riesco a collegare queste... Allora, adesso facciamo venire la polizia e sequestriamo le apparati fotografici presenti in aula. Va bene. Chi ha scattato una foto? Eh, guardi, deve proprio evitare questo, perché non è consentito. Andiamo? Dicevo, certamente Sergio Orsi mi parlò dell'intenzione di realizzare un termo valorizzatore, ma non riesco a collegare questa intenzione al progetto di realizzazione di un ciclo integrato di rifiuti a livello consortile. lo ricorda adesso che non riesce a collegare questa intenzione? Presidente, non me lo ricordo. Non è un'opposizione, nel senso che è una contestazione che non c'è rispetto a una domanda, che dice non lo ricordo. Io per questo gli ho detto... No, e qual è l'opposizione? Ha detto non ricordo, risponde... Beh, può darsi che a seguito della lettura della dichiarazione resa in fase di indagini, ricordi e renda anche dei particolari. E' consueto questo fenomeno. Sì, ma la contestazione è una contestazione di un verbale in cui ha detto non ricordo. Cioè, è la cosa che ha detto prima. Ma non riesco a collegare, non dice non ricordo, pubblico ministero. Dice non riesco a collegare, non dice non ricordo. Andiamo avanti. Io le ho fatto la contestazione, ma salvo. Lo collego, non lo ricollega a questo progetto della realizzazione del termo valorizzatore, a progetto di realizzazione di un ciclo integrato di rifiuti a livello consortile, sì o no? Non me lo ricordo. E nonostante la contestazione, continua a non ricordarselo? Sì, continua a non ricordarmelo, per l'avvocato. Presidente, mi scusi, ma, cioè, non per questionare, ma se dovessimo fare tutte le contestazioni di ogni virgola, eventualmente di forme, potremmo passare la vita qui, insomma, tutta la vita, perché nonostante la contestazione non riesca a ricordarmelo, nella contestazione ha detto non ricordo prima, ha detto non ricordo adesso, la contestazione non riesca a cogliere veramente, forse è un mio libro. Ma, beh, questo sarà un momento di valutazione, non possiamo impedire un'attività che secondo il codice procede liberamente, salvo... Forse il primo era distratto, non aveva il verbale. No, per favore, per favore, evitiamo polemiche. Andiamo avanti, faccia altre domande. Non riesco a ricollegare, è una cosa un po' differente. Faccia altre domande. Poi potrebbe essere, non ricordo, allora, il ricordo e il collegamento diventerebbero sinonimi. Allora, senta, lei sa se il consorzio Caserta 3 aveva una società mista? Ma hai sentito parlare di Econova, AXA? No, non me lo ricordo. Sa se il consorzio Caserta 1 aveva Green Line e Matesi Ambiente come società mista? No, non me lo ricordo. Non se lo ricordo. In ragione, diciamo, della sua competenza nel settore, volevo chiedere, è un'informazione, ma può tranquillamente non esserne a corrente, anzi faccio una domanda un po' più ampia. Lei seguiva, occupandosi delle vicende della Flora Ambiente, dell'Ate e poi dell'Eco 4, i paralleli sviluppi del contratto Fib e Fisia? Come evolveva la vicenda? Non li seguiva, non è a corrente? No, perché io dopo che mi sono interessato della Flora Ambiente per quanto riguarda l'aggiudicazione della creazione dell'Ate, io non mi sono interessato ad altre cose. Quello che riuscivo a sapere, a calpire, era perché i fratelli Orsi me lo riferivano durante i periodi di vacanze, a Baidomissi, ci incontravamo comunque tutte le sere. Io, dell'interessamento, di quando mi sono incontrato con i fratelli Orsi, prima già non mi occupavo più di rifiuti, io interessatomi della Costituzione dell'Ate e Flora Ambiente? Poi quanto tempo si è interessato dell'Ate e Flora Ambiente? È stato qualche mese, lei dice circa un anno, no? Non me lo ricordo il periodo, non me lo ricordo il periodo che sono stato... Volevo sapere se lei, nel periodo in cui si interessava, quindi lavorava con i fratelli Orsi, avesse avuto modo di seguire le vicende del contratto Fib e Fisia, solo questo? No. È una curiosità legittima, sa, non è che mica è un'offesa. No, per carità, avvocato, io vi rispondo a quello che sono le vostre domande. Non se lo ricorda. Non me lo ricordo. Sicuramente mi sono interessato, perché comunque leggevo, però adesso non ricordo se mi sono interessato o meno della Fisia di Alimpianto o di altre situazioni legate a quello che era la questione di Napoli 1, eccetera. Non me lo ricordo. Ho capito. Ma, però, un po' seguivi i giornali, lei ricorda che l'aggiudicazione a Fib e Fisia è del 22 aprile del 99? Non me lo ricordo, avvocato, questo. Perché quando lei si comincia a occupare di IA, ti viene chiamato da Bernardo Cirillo, Fib e Fisia già hanno avuto l'aggiudicazione della gara. Non lo ricordo. No, non me lo ricordo. Senta, e sa se, sempre con riferimento al termovalorizzatore, se nelle conferenze di servizi che si svolsero aprile-maggio 2001, tra il Consorzio, i Comuni, la Prefettura e il Commissariato, si era discusso della realizzazione di un termovalorizzatore. E al corrente... Io non lo ricordo questo. Senta, con riferimento all'ampliamento della discarica di Parco Saulo, e alla scelta, alla ricerca dei terreni. Lei ha fatto riferimento, nel corso delle scorse udienze, al tentativo di quel suo conoscente, Verrazza, di acquistare un terreno e che questo tentativo sarebbe rimasto frustrato perché Verrazza sarebbe stato costretto da Francesco Schiavone a astenersi dall'effettuare questo tentativo di acquisto. Lei riesce a collocare nel tempo questo episodio? No, l'episodio me lo ricordo, però il periodo di collegamento che hanno fosse, non me lo ricordo. E che così non ci offre nessun parametro, come posso dire, di certezza storica. In relazione all'incontro presso l'autoricambi Verolla, ci comprendiamo, è convenzionalmente quello nel quale sostanzialmente lei venne estromesso, venne sollevato dall'incarico, riesce a datare l'anno, non dico il mese e il giorno, ma l'anno in cui si svolse questi... L'anno in cui sono stato chiamato da guida perché dovevo uscire? Sì, sì. No, non me lo ricordo l'anno. Ed era primavera, era autunno, era inverno, ha un parametro su questo. No, non me lo ricordo. Quanti mesi in totale ha lavorato insieme ai fratelli Orsi? Vediamo di risalirci in questa maniera. Io penso che in 7-8 mesi, un annetto, ci ho lavorato con i fratelli Orsi. Quindi tra 7-8 mesi è un annetto, questo è già un parametro più preciso. Lei poi ha continuato a frequentare gli Orsi, tutti e due, i fratelli Orsi. Ma soprattutto Sergio. Michele pochissime volte lo incontrava, ma Sergio di più. Era rimasto un rapporto di amicizia con Sergio. Chiedo scusa, ma mi pare che sono circostanze che ha detto. Poco fa ha detto che si vedevano tutte le sere a Baiadomizzi. Una cosa è vedersi a Baiadomizzi, una cosa è l'intensità del rapporto e coglierne le, come posso dire, le confidenze. Vabbè. Risponda, Vassano. Comunque quando mi incontravo con Sergio Orsi o con Michele, comunque si parlava della questione rifiuti. Per cui io mi interessavo tramite, conoscendo pure Sergio che era un tipo che ne parlava molto, io cercavo di capire, di interessarmi alla cosa e comunque, nelle varie discussioni, di dare sempre la mia disponibilità a Michele, a Sergio Orsi. Senta, l'incontro con Bernardo Cirillo e il figlio di Francesco Schiavone a Baia Domizia avviene lo stesso anno in cui lei ebbe l'incontro con Guida e l'estromissione o l'anno dopo, due anni dopo? Non me lo ricordo. Perché, verbale del 29 maggio 2008 e poi, non mi ricordo, non mi ricordo. Grazie. 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 Il primo impatto l'ho avuto da Sergio Ursi di questo cambiamento. E può dirci quando e in che circostanza? No, non me la ricordo la circostanza, non me la ricordo il periodo, no. rispetto all'epoca del licenziamento dei suoi fratelli era prima o dopo? non me lo ricordo non ricorda se Sergio le diede questa spiegazione proprio legandola alle ragioni del licenziamento dei suoi fratelli? no, non me lo ricordo in questo momento non me lo ricordo non me lo ricordo non me lo ricordo non me lo ricordo allora foglio 41 del verbale del 12 settembre del 2008 Vassallo Gaetano lei fa riferimento all'incontro presso l'autoricambio di Verolla loro mi dissero tu esci oggi non dè più il contributo all'eco4 per conto nostro nient'altro io però non è che potessi muovermi per conto mio loro sapevano che i miei fratelli lavoravano ancora là anzi ricordo bene che nell'incontro a Luciano nell'autoricambio di Verolla quando si parlò di uscire fu detto chiaramente non vi permettere di licenziare i fratelli loro fecero passare sei o sette mesi per poi licenziarli se lo facevano contemporaneamente a questa mia uscita succedeva un casino allora non voglio sbagliarmi con Sergio Orsi parlai di queste cose Sergio Orsi cioè mi riferì Gaetano non è cosa non è che ce l'abbia con te come rapporti personali sai bene le situazioni come stanno come sono cambiate si riferiva al clan mi ricorda con esantezza questo colloquio quando quando si può inquadrare non me lo ricordo senta e questo colloquio avvenne prima o dopo del suo incontro con Cosentino dell'incontro nel quale lei chiese al Cosentino di rientrare diciamo prima prima quindi lei già sapeva che era cambiata la geografia no? quando quando si incontrò con Cosentino sì Cosentino mi disse mi disse soltanto la conferma ma io lo sapevo già da da Orsi Sergio ma l'aveva saputo prima da Orsi Sergio o da Bernardo Cirillo a Baia Domizia? Bernardo Cirillo già me l'aveva confermato quando fu il problema di Bortone per quanto riguarda la fornitura di terreno vegetale sulla discarica eccetera poi ebbi la certezza la conferma di Sergio Orsi e poi io nonostante questa cosa volevo comunque rientrare nella questione dei rifiuti e mi incontrai con Cosentino quindi fu prima Bernardo Cirillo e poi Sergio Orsi che gliene parlano sì prima Bernardo Cirillo mi aveva parlato che le cose erano cambiate Sergio Orsi mi disse il particolare e poi io comunque volevo rientrare e mi incontrai con Cosentino di questa cosa ma Cosentino mi confermò l'impossibilità proprio per questi motivi a non poter partecipare a questa questione passiamo a un altro argomento perché mi interessa capire ancora una volta i tempi lei conosce l'onorevole Landolfi? di persona non l'ho mai incontrato cioè non ci siamo mai salutati ricorda se l'onorevole Landolfi ebbe modo a chiedere a Valente per esempio assunzioni per l'Eco 4 e questo l'avevo saputo da Verte Valente quindi è una notizia per la campagna elettorale sia del comune di Mondragone per altre cose che comunque dovevano assumere personale che Sergio si lamentava perché era personale che è inutile insomma però serviva solo per la campagna per le campagne elettorali quale campagna elettorale? non me la ricordo da adesso quale fosse le campagne elettorali per carità non me la ricordo non me lo ricordo il periodo sicuramente era dopo il 2004 ma erano che le sappia politiche o comunali? non me lo ricordo Mondragone me la ricordo poi se non ho collegato alle politiche non me lo ricordo ma Mondragone me la ricordo c'erano le votazioni al comune di Mondragone lei questa richiesta la contestualizza in un evento la lega io ricordo di averlo io ricordo di aver incontrato Peppe Valente e Duco Conte al ristorante La Tortuga per una festa di compleanno qualche io stavo là con la mia famiglia ma era sicuramente dopo il 2004 con esattezza non ricordo ma era una questione del comune di Mondragone grazie a tutti Grazie. 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 Quindi lei non c'entra più nulla con gli orsi, però utilizza la prima, il plurale, maiestatis. Ma con Sergio Orsi, perché mi aveva... cioè Sergio Orsi era un amico mio, come io ero per lui, lui era per me, eravamo amici. Ho capito. Tanto amici che quando fa le feste lei poi chiamava la tenenza di Mondragone per fare la segnalazione delle targhe. Questo era un segno della sua amicizia. Avvocato, non è una domanda questa. Comunque lei sulla contestazione ribadisce che l'Andolfi aveva, ci aveva chiesto, assunzioni presso l'Eco 4 alle ultime elezioni. Ha detto a Sergio Orsi. A Sergio Orsi questo ci... appunto questa pluralità. Senta, era una festa di compleanno, ma di chi era il compleanno? Se lo ricorda? Mi sembra di un coconte. O un coconte o pepe valente. Non ricordo comunque chi fosse festeggiato. Lei, Lubello Giovanni, lo ha conosciuto quando era fidanzato con Caglia Bidognetti? Non ho capito. Lubello Giovanni, quando lei lo ha conosciuto, con chi era fidanzato? Non me lo ricordo se era fidanzato con la figlia di Bidognetti. Mi sembra che era già fidanzato con la figlia di Bidognetti. Lubello Giovanni effettuò la fornitura, lei ha riferito prima, anche se non ricorda se è primo o dopo, se è alla Flora, all'Ati, all'Eco 4, dei computer. Lei ha riferito... Doveva fornire, avvocato, non ho detto che ha fatto, stava interessante per fare la fornitura. È diverso di averla fatta, non lo so se l'ha fatta, ma si interessava per quanto riguarda una gara a comune di Villa Literno, sempre con i fratelli Orsi, e poi si stava interessando di così. Ecco 4, non la gara di Villa Literno, mi interessa Ecco 4, Flora, quindi lei non sa se l'ha fatta la fornitura. Non lo so se l'ha fatta la fornitura, so soltanto che comunque ci eravamo visti presso gli uffici di Santa Maria per allestire questi uffici per quanto riguarda i computer, eccetera. Poi se l'hanno fatta non lo so, se non l'hanno fatta non lo so lo stesso. Mi scusi, ma non le regalò un computer portatile per la sua intermediazione? Sì, a me me l'ha regalato un computer portatile. A prescindere che l'abbia fatta o meno la fornitura? Sì, io il computer me l'ha regalato. 8 maggio. Allora, verbale dell'8 maggio, foglio 11. Per la mia intermediazione per la fornitura all'Eco 4, il lubello mi regalò un computer portatile. Due righi sopra. Questo Giovanni venne negli uffici dell'Eco 4 e fece la fornitura dei computer, così come richiesto dal gruppo bidognetti. Quindi, lei in questo verbale dice, uno, che fece la fornitura, due, che il regalo del computer, che altrimenti sarebbe francamente irragionevole, fu fatto per avere effettuato la fornitura. Ricorda questa circostanza? Io confermo quello che ho dichiarato, però sinceramente non lo so se poi effettivamente è stata fatta la consegna. Cioè, l'interessamento di tutta la procedura fu fatta, si fecero dei sopralluoghi, si stava facendo. Poi, sinceramente, non lo so se effettivamente sono stati collocati questi computer. Io so soltanto che si è interessato di questa cosa. Convermo quello che ho dichiarato, però materialmente non li ho visti se l'hanno fatto o meno. Però stavano a buon punto per la fornitura. Ho capito. Lei svolse un ruolo di intermediazione in questo, come dire, rapporto tra Lubello e Giorsi per questa fornitura. Ma no, il problema non era, il problema non... Io non me lo ricordo qual era la collaborazione, ma più che altro tra me e la famiglia Bitagnetti c'erano dei rapporti di amicizia, per cui sinceramente non so quale fossero i rapporti tra il Lubello con Sergio. Però non lo so se i computer sono stati forniti o meno. Ancora qualche domanda, poi facciamo un break, Presidente, perché sarà ancora lunga. Presidente, se vogliamo scollere, non so se rispetto alla necessità di esaminare guida Luigi, se ce la facciamo. E' solo per ragioni organizzative. Noi alle 14 dovevamo fare... L'esame, completare l'esame di guida. Presidente, io non credo di... Visto i tempi, credo che... Non ce la faremo, o lo spostiamo di un'ora. Ragiono così... Mettendo i miei panni dell'Avvocato. Noi dopo dovremmo andare... Però io devo finire ancora l'esame di guida. Non ho compreso, Pubblico Ministero. Lei intende... Presidente, era soltanto una questione. Siccome abbiamo due e mezza, e secondo me due e mezza non finiamo sicuramente il controesame, o lo spostiamo qui da... Eh, io qui lo volevo solleciare, perché se lo dobbiamo... Lo spostiamo di un'altra ora e mezza, però sicuramente non potremo fare il controesame, perché io dovevo ancora finire l'esame di guida. Quindi stavo organizzando, se no dobbiamo rinviarla a questo punto, è inutilmente inutile mantenere il collegamento. E' solo una... Un contributo per la pianificazione dell'udienza. Soltanto questo è il mio. Quanto tempo prevede l'Avvocato Montone? Che deve intervenire anche l'Avvocato Letizia dopo. Eh? Molto breve. Molto breve. Credo un'oretta, perché dobbiamo poi affrontare il tipo di... Un quarto. Saranno due ore. Non so se vogliamo fare una pausa adesso... Sì, una pausa comunque si deve fare, ma se lei dice un'oretta, che poi diventa un'ora e mezza, praticamente siamo alle due e un quarto, alle tre e un quarto. Più una mezz'ora di... Arriviamo alle quattro e meno un quarto. A questo punto, diciamo, come complessivo del tempo necessario per esaurire Vassal. Ma a questo punto comunque rimangono tre quarti d'ora fino alle 16.30, che è un orario previsto dal protocollo. Ho tre domande in serie di riesame del Pubblico Ministero. Siccome non hanno ancora finito, allora è probabile che divengano 6-7. Come riesame del Pubblico Ministero su Vassal intendo. Quindi è solo sempre per organizzare il tempo, visto che siamo a metà più o meno... Cioè lei per guida quanto tempo ci mette? No, per guida... No, io parlo di Vassal, ho tre o quattro domande su Vassal. Ah, deve fare ancora. Siccome siamo a metà, è plausibile che arriviamo a 6-7. Ho capito. C'era anche il difensore che voleva mettere in evidenza alcune circostanze. Di cui nel resto sia difficile esaurirlo oggi. Guida è impossibile esaurirlo oggi, ma forse anche l'esame del PM potrebbe non esaurirsi oggi. Sì, perché poi quello può fare un pezzacqua di questo. Io credo che le parti, Presidente, non abbiano problemi. Se vogliamo sospendere un attimo, poi il Tribunale organizza secondo quello che ritiene. Le parti, penso, non hanno problemi. Va bene, allora io penso che è inutile trattenere guida per sentirlo per un quarto d'ora. Perché non si completa proprio per nulla. Quindi... Il passato di guida sarà quasi come passato, ma passato almeno un'ora e mezzo a due anni. E va bene. Non possiamo fare pesante. Perciò, però, ve lo inserivo con un ulteriore argomento di ricomplazione. Poi noi abbiamo Amodio che dobbiamo sentire in programma. Poi non abbiamo più niente programmato. Non avevamo ancora stabilito. Stabilito. Però dobbiamo farlo perché, voglio dire, ci restano il primo e il 15 luglio. E dobbiamo programmare l'attività. Presidente, ragionevolmente il primo e il 15 luglio, che è con vita, non so se viene in mezzo o in mezzo, credo. Vediamo, magari ci pensiamo dopo. Va bene, allora sospendiamo per mezz'ora. Va bene, Vassallo? All'assito riservato mi sentite? Sì, Presidente. All'assito riservato.